La visione del mondo A che punto è la visione del mondo da parte della mente dell'uomo? Commento La mente ha un approccio fondamentale con la biologia e con la psicologia, ma non va oltre. Attraverso i suoi approcci cerca di spiegare ciò che percepisce. Intanto si arricchisce delle diverse visioni del mondo, ma non è in grado, come fa la coscienza, di collocare queste visioni entro un unico mosaico evolutivo.